Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo una ricetta facilissima, velocissima, ma soprattutto buonissima. La crema di caffè light, senza lattosio. L'anno scorso vi ho proposto una ricetta simile, sempre con il frullatore di immersione, però la ricetta dell'anno scorso conteneva più caffè e meno acqua. Questa ricetta è davvero facilissima come quella dell'anno scorso, si realizza sempre con il frullatore di immersione e contiene meno caffè e più acqua, però una crema decisamente golosa, senza lattosio, facile e veloce da realizzare. Vi lascio qui sotto in info box tutti gli ingredienti e mi raccomando, se provate questa ricetta, fatemi sapere cosa ne pensate. Buonissima da prendere come dolce a cucchiaio oppure con il caffè. Ragazzi, provatela, mi raccomando. Buona visione! Prendete un bicchiere di acqua fredda già da frigo, la mettete in freezer per circa due ore. Dopo due ore, eseguite questi movimenti, così il bicchiere e il ghiaccio che si è formato si stacca dal bicchiere facilmente. Bene, versate il tutto nel vostro contenitore e poi versate anche mezzo bicchiere di zucchero bianco e due cucchiai di caffè solubile. Lavorate il tutto con il vostro frullatore di immersione. Eseguite movimenti su e giù e poi soprattutto lavorate la superficie della vostra crema di caffè. Quindi, prima inizialmente lavorate molto la base, quindi giù, e poi seguite movimenti su e giù, ma soprattutto poi lavorate la superficie, come faccio io. Si formano queste bolle e queste bolle, grazie a queste bolle, otterremo la nostra crema di caffè. Guardate, è davvero facilissimo. Dopo che abbiamo lavorato benissimo la base, poi ci stabiliamo nella superficie e dobbiamo creare, diciamo, questo vortice con il nostro frullatore di immersione. Come vedete, si creano facilmente le bolle. Guardate bene, dobbiamo creare proprio questa bolla d'aria dove dovete lavorare proprio in superficie con il vostro frullatore di immersione. E come vedete, la crema si sta già cominciando a formare. Mi raccomando, dovete insistere. Non frullate, non utilizzate il frullatore solo per un minuto perché non otterrete la vostra crema, ma per almeno 4-5 minuti. Dopo 4-5 minuti la vostra crema è pronta. Ragazzi, credetemi, una vera e propria delizia. Potete utilizzare la vostra crema sul caffè oppure come dolce al cucchiaio. Guardate come sto lavorando la superficie della nostra crema e diventa sempre più cremosa. Che dirvi, ragazzi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete, potete seguirmi su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come ricette golosi di Cartesia. Aspetto numerosi i vostri commenti. Mi raccomando, questa è una crema di caffè più delicata, leggera, ma soprattutto super golosa. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartesia!